Attività di sgombero coatto in località Madonna del Carmine ad Agropoli. Le operazioni sono iniziate questa mattina alle ore 7.30 e hanno interessato un appartamento confiscato già 15 anni fa ad occupare abusivamente l'immobile e una famiglia rom del posto. Grande dispiegamento delle forze dell'ordine sul posto coordinate dalla locale compagnia dei carabinieri di Agropoli, guidati dal capitano Fabio Lagarello con rinforzi del battaglione della legione carabinieri campani. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento agropolese, i vigili urbani e diverse ambulanze della Croce Rossa, oltre a tecnici comunali, operai della Sarim e dell'Enel e personale del servizio sociale.